Sono in un ristorante ancora, una piccola, che posso dire, tipo una bruschetteria, una cosa del genere qui in centro. E sono ancora qui da ormai due ore, siamo al buio, adesso eravamo sotto il tavolo, ci hanno fatto alzare, però la polizia non ci fa uscire, anzi continua a fare entrare gente in questo ristorante.